E signori, buonasera. Questa volta non parlo di libri o di vicende della Seconda Guerra Mondiale, ma uso il canale YouTube per fare pubblicità ad un evento a cui ho avuto il piacere di contribuire come ideatore e a cui contribuirò come DJ, perché sabato 3 novembre il sottoscritto Metal Mike, metallaro, ottimo massimo, per grazia di Dio, volontà della nazione e in culo a chi mi vuole male, sarò uno dei DJ alla serata del Morire Fest, un festival di sola andata. Al Wave di Misano Adriatico suoneranno gli Hawk Throne in necrofilia, gli Injury e gli Hate and Merda per una serata a base di metallo pesante, tanto pesante e tanto metallo, brutalità, violenza, sangue, sudore, lacrime, lacrime brutte maniere, ignoranza musicale, ignoranza fisica e soprattutto tanta, 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 tanta morte, perché la gente muoiono, moriranno molto, moriranno tanto, moriranno male, moriranno peggio, ma soprattutto moriranno male, però per bene. Quindi, cari signori, Morire Fest, un festival di sola andata, sabato, sabato, 3 novembre 2018, Wave Alternative Club, Misano Adriatico, provincia di Rimini. Non mancate, perché se non venite, ve ne pentirete, perché perderete un'ottima occasione per farvi molto male. Chiaro? Quindi io e i miei soci e complici vi aspettiamo al Wave Alternative Club di Misano Adriatico, provincia di Rimini, il 3 novembre 2018. Morire Fest! Un nome, un programma, un nome, una garanzia, un nome e la gente muoiono. Chiaro? Vi aspettiamo. Accorrete numerosi e soprattutto dopo non lamentatevi. Non lamentatevi se vi faremo molto male. Siamo lì apposta. Ah, piccola cosa. Ai soliti quattro stronzi che rompono i coglioni che in giro non c'è mai un cazzo e poi dopo non si schiodano da casa quando ci sono questi eventi, dico soltanto una cosa. Questa. Chiaro? Quindi, cari signori, vi aspettiamo. Ripeto, vi aspettiamo, vi aspettiamo, vi aspettiamo. Vi vogliamo numerosi al Wave Alternative Club per il morire Fest! Per gli Hate & Merda, per gli Injury, per i Necrofilia e per gli Oktron. Chiaro? Nei commenti, scusate, nella descrizione al video troverete il link dell'evento, quindi non avete scuse, dovete venire. Volete perdere un'occasione per crepare con classe? Ci vediamo, gente! Vi aspettiamo! Vi aspettiamo! Io vi aspettiamo! Buon sito! Grazie.